Mancano solo 5 giorni all'evento finale ragazzi e quello che sappiamo su questo evento è davvero incredibile Abbiamo un sacco di informazioni che andremo a vedere tutte in questo video Quindi mi raccomando non ti resta che sederti comodo, goderti il video e lasciare un pollicione in su Ma adesso iniziamo a parlare con calma di questo evento La prima parola che vi dico è che questo evento probabilmente vi lascerà senza parole E adesso vi spiegherò tutti i motivi Iniziamo prima però con il dire che la lobby è cambiata di nuovo Adesso il robot ha tutte le gambe, è corazzato, ha la nuova armatura e gli manca solo il braccio che purtroppo è ancora sulla mappa di Fortnite Inizio col dirvi che questo evento vi piacerà sicuramente e rimarrete senza parole Perché a quanto pare e a quanto ci hanno detto è il più grande evento della storia di Fortnite E vi spiego un attimino il perché Gli altri eventi hanno avuto delle dimensioni molto grandi ma questo ragazzi è addirittura il doppio più grande Quindi dovremmo aspettarci un evento assurdo E tra l'altro secondo Playstation questo evento andrà a durare 15 minuti Ragazzi 15 minuti sono tantissimi 15 minuti di azioni, 15 minuti di divertimento, di robe strane, di colpi di scena Voi siete pronti per l'evento? Regà io sono super carico, non so voi Sono super carico anche perché so quello che andrà a succedere durante l'evento finale ragazzi E tra poco lo saprete anche voi Mi raccomando però dovete supportare al massimo il video Ovviamente queste informazioni che vi dirò non saranno proprio scerte al 100% Quindi prendetele un attimo con le pinze Prendetele come se fossero degli spoiler che potrebbero succedere ok? Non saranno sicuri Partiamo subito con la prima notizia Le sorelle dei sette, ordine e immagine potrebbero essere delle traditrici Anzi lo dovrebbero essere quasi al 100% Oltre al fatto dei nomi quindi ordine e immagine Che messa insieme è ordine e immagine In inglese vuol dire ordine immaginario Regà order e imagine, imagine order Vabbè avete capito Ma non solo Vi ricordate infatti che i loro file sono stati cancellati dall'ordine immaginario Proprio per non far scoprire ai sette la verità Questo sarà solo il primo colpo di scena durante questo evento finale Il fatto che le sorelle dei sette li hanno traditi Hanno tradito i sette e si sono unite con l'ordine immaginario E forniranno all'ordine immaginario dei dettagli molto importanti Vedremo se saranno utili per sconfiggerli Ci dicono inoltre che il dispositivo, questo qui Avrà un aspetto totalmente diverso dal dispositivo di Mida Vi ricordate il dispositivo di Mida che faceva? Aveva creato tipo una safe fatta con l'acqua E essendo questo totalmente il contrario Ragazzi, da quello che ci dicono Dovrebbe esserci tipo un dispositivo di fuoco Infatti sembra che il dispositivo assorbirà l'energia della tempesta E si surriscalderà e provocherà un'esplosione E poi ci dicono che durante la prossima stagione La tempesta sarà rossa e si tratterà di un'ondata di calore Quindi ragazzi, beh, la teoria potrebbe essere confermata Essendo questo l'opposto del dispositivo di Mida che ha messo l'acqua Un flashback, quindi qualcosa che è successo prima Non si vedrà, ma la Sloan sembrerà spaventata Signori, questo flashback potrebbe, e dico potrebbe essere con Mida Poteva essere che la Sloan parlasse con Mida per studiare il dispositivo insieme? Oddio, ci starebbe Non è finita qui Dato che l'evento si chiama collisione Questo presuppone una collisione tra qualcosa Anzi, la definizione di collisione, regà È una collisione tra due corpi Quindi o due pianeti o due cos... Comunque ci sarà uno scontro tra qualcosa E questo scontro, mi è venuto in mente l'altra sera Potrebbe essere con la luna che cade sulla mappa Regà, sarebbe, pensateci, una roba incredibile Non so quanto sarà fattibile, quindi non mi credete Perché è una news mia questa, ok? Non mi credete Però, dato che poi questo Liger Anonimo ci dice che durante la stagione 3 L'acqua scomparirà quasi del tutto Mi viene da pensare che la luna si faccia qualcosa Non lo so, l'acqua è gestitata dalla luna, la gravità Regà, non lo so, ma non mi chiedete queste cose a me Ma che ne so io dell'acqua, la luna e queste cose qua? Sappiamo solo appunto che quasi tutta l'acqua scomparirà E la stagione si chiamerà Drought Quindi in italiano siccità Quindi senza acqua Come vi ho già detto prima appunto La tempesta sarà rossa e si tratterà di un'ondata di calore Quindi regà, una volta entrati nella tempesta Vi cuocerete, in poche parole E ci saranno anche delle novità Per quanto riguarda quel vulcano lì giù Che a quanto ci dicono Tornerà attivo E infatti ci dicono che il vulcano tornerà E ci sarà un personaggio al suo interno Penso a questo punto che sia un boss o un NPC E ci specificano che non sarà Indiana Jones L'area intorno al vulcano cambierà completamente Quindi regà, probabilmente ci sarà un'eruzione Un qualcosa che cambierà tutta questa zona intorno al vulcano Tutta questa zona di mappa cambierà completamente Ci saranno molte skin a tema lava Quindi a tema fuoco Quindi a tema caldo appunto Perché sarà proprio il tema di questa stagione Dato che siamo anche in estate Direi che ci hanno azzeccato con il tema regà Ci sarà una skin maschile craftabile All'interno del pass battaglia Signori potrebbe essere proprio la skin Di cui vi parlavo nel video del pass battaglia Ve la ricordate quella skin Che vi dicevo che secondo me era fighissima Perché si poteva craftare Ossia Comporre come volevamo Secondo me regà Sarà una skin bellissima Dato che la stagione prossima Avrà una siccità Proprio come ci hanno già spoilerato Con il fiume secco Regà questo qui Ci saranno ogni tanto sulla mappa Una sorta di Di zone d'acqua Che ti cureranno Un po' come pantano palpitante Regà vi ricordate quando Entravate nell'acqua dello slurp Che vi curavate Beh ci sarà proprio una roba simile Solamente con poche pozze d'acqua In giro per la mappa Una roba molto interessante Che probabilmente Rivoluzionerà il gameplay Tornerà probabilmente Qualche sorta di Craft di armi Ossia che si potranno costruire le armi O si potranno potenziare Magari a tema fuoco Sarebbe fighissimo E quindi abbiamo ipotizzato Che ci saranno delle nuove armi Voi quale armi vorreste vedere All'interno della nuova season Delle armi vecchie O delle armi completamente nuove Vi faccio un esempio Volete il ritorno dello scar E del pompa tattico Oppure vorreste due nuove armi Un fucile d'assalto Tutto nuovo Con un mirino in prima persona Un lanciafiamme Non lo so regà Liberate la vostra fantasia Nei commenti Tanto lo sono liberi Scrivete quanto volete Se non l'hai già fatto Mi raccomando Ovviamente Il pollice no in su E il codice lo lo pone nello shop Vanno inseriti al 100% A questo punto Mi viene da dire Che scompariranno i motoscafi Dato che nella prossima season Non ci dovrebbe essere Quasi per nulla Acqua Scompariranno totalmente I motoscafi E magari aggiungeranno Qualche nuovo veicolo Questo potrebbe essere Un super super evento Che dire signori L'evento durerà 15 minuti Da come vi ho detto prima E sarà stratosferico Andremo sulla luna Ci sarà una collisione Tornerà il robot Ci saranno i 7 I 7 tradiranno i 7 L'ordine immaginario Vincerà sui 7 Arriveranno Tanti flashback Ci saranno tante novità Ma soprattutto Ci divertiremo un mondo Per non perderti l'evento Ricorda di entrare almeno E dico almeno Un'oretta prima nel gioco Quindi alle 8 Alle 9 Tieniti pronto nel gioco E mi raccomando Se non puoi vedere l'evento Ricorda che subito dopo Uscirà un video Sul mio canale In cui ve lo faccio vedere Quindi mi raccomando Seguitemi Attivate la campanella E detto ciò Abbiamo spoilerato tutto Sull'evento finale Abbiamo spoilerato tutto Sulla prossima season Io direi che vado a farmi Qualche partitella Ragazzi Ci vediamo domani Con un nuovissimo video Ciao ciao